in policarbonato completamente trasparente. La Marie viene presentata nel 1999 al Salone del Mobile e fece un po' di paura al pubblico perché non erano abituati a vedere una sedia del genere e pensare che possa reggere il peso di una persona. Quindi per superare questo scoglio viene presentata sotto un martello pneumatico che per una settimana martella continuamente la sedia. Questo al Salone del Mobile, infatti una dirigente mi diceva Sì mi ricorda, dopo una settimana avevo una testa così.